Sì, 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 ma buono... No! Un momento, si ha detto un momento! Ma come l'ultimo, non voglio niente! Ma non hai fatto! Allora, la tua manina funziona! O William, c'è successo, manca nulla! Cazzo, sta finendo la batteria! Sì, sì, sì! Panico a Roma! Cioè, la luce è la luce! E' un problema di microfono! Ma siamo lui riusciti con il megacolo! L'unica per me! Sì! Ma siamo lui riusciti! Allora! No!